Qualche settimana fa ho sentito un mio vecchio cliente di quando ancora insegnavo a fare pubblicità su Google spendendo meno dei concorrenti Beh, questo signore, ispirandosi anche a quei contenuti, ha realizzato un business che è arrivato a fatturare oltre 6 milioni di euro all'anno diventando uno dei player più importanti nel suo mercato La cosa curiosa è che lui non è un fenomeno nel marketing, cioè ci sono concorrenti più abili di lui in questo e non è l'azienda con più soldi, altri hanno finanziamenti a fondo perduto per milioni e milioni di euro Però questo è una persona con una mente imprenditoriale di alto livello in grado di ragionare con la dimensione delle 7 cifre all'anno e muoverci di conseguenza Dunque mi pareva interessante farti un esempio di come lui ragiona quando progetta un nuovo business L'occasione mi si è presentata quando mi ha parlato di questo nuovo progetto che stava sviluppando mostrandomi il sito in anteprima Beh, se il suo business precedente, quello da 6 milioni, è in un settore difficile, qui la cosa è ancora peggiore Tanto per dire, tra i suoi concorrenti ce n'è uno che inizia con A e finisce con Mazon Anche per questo motivo sono sicuro che nella mente di questo signore ci sono tutte le domande tipiche che abbiamo tutti noi Ma sto facendo il passo più lungo della gamba, ma è il caso che rischio in questo modo E se poi va male, vedi video sulla domanda atomica Ecco, credi che questo signore non si faccia queste domande? Se le fa e come Ma decide di credere in se stesso, credere nella sua idea Così tanto da investire di tasca propria e usare buona parte del suo capitale personale Ma anche qui nota la sottigliezza Non ha messo il proprio capitale personale da sprovveduto No, ha fatto la cosa giusta Cioè, prima ha tentato di iniettare capitale di terzi nell'azienda da 6 milioni Andando personalmente da più Angel Investors Poi ha scelto di non usufruirne A causa dei vincoli che questi gli imponevano Ma qui non è importante che abbia ottenuto o meno il finanziamento degli Angel Investors È importante che lui ci sia andato Che ci abbia messo il naso E che alla fine abbia preso una decisione consapevole Perché questo fa una mente imprenditoriale di alto livello Non si muove in modo sprovveduto Si muove in modo strategico E si muove con una dimensione mentale adatta a ciò che vuole realizzare Vorrei farti notare, ad esempio Che lui non è partito in questo progetto per fare qualche spicciolo È partito per fare milioni Si è strutturato fin da subito come un'azienda che può fare milioni A livello di tecnologia, di infrastruttura e di tutto quanto E poiché ci volevano anni per sviluppare una tecnologia robusta Che supportasse quelle dimensioni È semplice, è partito anni prima Cioè ha fatto tutto quello che doveva fare Ma ha pianificato fin dal primo giorno un'azienda dal potenziale milionario Senza scorciatoie, senza sperarne la botta di fortuna Allora ti invito a farti queste domande Tu quante risorse hai il coraggio di investire su di te? E quando prendi le decisioni per il tuo business Stai prendendo decisioni consapevoli E quando imposti il tuo progetto Lo stai impostando per costruire qualcosa di grande Ecco, ti lascio, come spesso accade nei miei video Con più domande che risposte Antipatico, lo so Ma la via della consapevolezza è questa Alla prossima Da CL Marshall Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima